Stanco delle lunghe attese e delle code interminabili, europoste, servizi integrati, in via Montefusco 13, alle spalle delle poste centrali, a Cava dei Tirreni. Prosegue l'avvertenza sindacale contro l'associazione La Nostra Famiglia per l'applicazione del rinnovo contrattuale previsto per il comparto della sanità privata. L'organizzazione sindacale Will FPL, unitamente la RSA, dice no al cambio di contratto. I sindacati dunque mantengono ferma la loro posizione di rifiuto rispetto alla proposta della nostra famiglia di passare dal contratto della sanità a quello tipico delle residenze sociosanitarie assistenziali e dei centri di riabilitazione, a confermarlo una nota stampa diffusa proprio dalle sigle sindacali. Dopo mesi di serato confronto con i vertici dell'associazione La Nostra Famiglia, si legge nella nota, nella giornata di ieri, dopo oltre dieci ore di trattativa terminata a mezzanotte, l'associazione La Nostra Famiglia ha confermato la propria decisione di revocare la sospensione della disdetta del contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità privata. L'avvertenza si era aperta nel gennaio scorso, quando l'associazione aveva espresso l'intenzione di modificare i contratti vigenti, secondo i sindacalisti a discapito dei lavoratori, a causa dell'impossibilità di sostenere le spese, in quanto l'organismo non godeva più delle agevolazioni di governo e delle regioni. Ma i sindacalisti, voce dei lavoratori coinvolti nella vicenda, richiedono all'azienda di valutare con maggiore attenzione il da farsi. Al momento però la situazione è in stallo e non si escludono nelle prossime ore scioperi e manifestazioni dei lavoratori. La Will FPL, Federazioni Poteri Locali, ha attivato infatti la procedura per la proclamazione dello stato di agitazione e dello sciopero nazionale di tutte le strutture dell'associazione La Nostra Famiglia.